E benvenuti in questo nuovo video Ragazzi sono in questo nuovo video glitch Per ottenere il pacchetto leggende stive Non funzionante al 100% Comunque ragazzi visto da un americano Oggi vi sto portando questo tutorial Ragazzi questo pacchetto se lo volete vincere Se non riuscite a vincerlo Ad averlo gratis Con questo glitch perchè non funziona al 100% Ripeto da alcuni però forse funzionerà Praticamente potete riceverlo Gratis scrivendo nei commenti Il vostro ID e hashtag partecipo Però dovete fare queste 5 cose Iscrivervi al canale Attivare la campanellina Lasciare like e condividere il video Con 5 vostri amici E poi infine Iscrivere hashtag partecipo Il vostro ID nei commenti Quindi ragazzi dovete restare attivi Tipo start una live subito Entrate tutti quanti dovete restare fino alla fine Così avrete più possibilità di ricevere questo pacchetto Come prima cosa per il glitch Ragazzi andate sulle impostazioni Andate su Gioco Mettete lingua Andate su questa qua l'ultima Fate applica Dopo fate conferma conferma E sarà la lingua inglese Dopo andate a rimettere italiano Aspettate conferma conferma Aspettate conferma conferma Ok dopo Andate su La lingua Polacco Fate Pozz E si buggerà E non vi porterà sulle notizie Dopo che vi dirà questo Andate su Italiano un'altra volta Fate conferma conferma E se non vi da le notizie Ragazzi vuol dire che il glitch Sta funzionando Andate sull'ultima opzione Fate sondaggi giocatori no Dopo mettete Filtro linguaggio maturo no Poi si Poi si anche su sondaggi giocatori Dopo appena fate indietro vi esce Le notizie Subito Cliccate chiudi Dopo tornare alle impostazioni E rifate lo stesso procedimento di prima Quindi inglese Conferma conferma Uscite Dopo Ritornate Italiano Conferma conferma Uscite E dopo Dove sta polacco Però questa volta vi dirà Le notizie Fate esci Ok Dopo aver fatto questo Andate su Asia Che sarebbe Asia Mettete Sempre inglese Settate conferma conferma E si buggerà un'altra volta Dopo aver fatto questo Andate a controllare Potete anche rimettere Italiano Ed Europa Vi dirà notizie Chiudete Andate in negozio oggetti Andate Aspettate il caricamento Dopo andate su V-Buck Gioca E vi dirà Che adesso A me bacia Un nuovo stile Se per esempio Esce una nuova emote Vi dirà Vi arriva la notifica Se no Se lo state facendo Un giorno dove non c'è niente di nuovo Oppure un nuovo stile Per esempio In un personaggio Non fa niente Andate In partita Andate in singolo Oppure in coppia Come volete voi Dovete andarvi A suicidare Il primo posto che volete Dopo andando ai negozi oggetti Doveste trovare Questo pacchetto Gratis Il pacchetto Diciamo Il pacchetto Legende estive E ripeto ragazzi Se volete ricevere Questo pacchetto Gratuitamente Iscrivetevi al canale Lasciate like Condividete Dovete condividere A 5 vostri amici Così potete ricevere La bananità Che si chiede Tutto quello che succede Quindi ripetiamo Iscrivetevi al canale Condividete A 5 vostri amici Attivate la campanella Appena vi è una live Dovete subito Entrare E condividere Anche la live Poi Lasciate like E niente ragazzi Ci vediamo al prossimo video Bella rega